E quindi veniamo al tema, 5 frasi chiave per spegnere un narcisista e recuperare il controllo, disarmare il narcisista. Ti voglio ricordare però che, prima cosa, sul canale YouTube Massimo Terramasco c'è l'abbonamento, ci sono 4 livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazione e seminario dal vivo, abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica, sul canale Crescita Personale con Massimo Terramasco c'è l'abbonamento per farmi delle domande in apposite live, in diretta, e sul canale YouTube Felicità Benessere con Massimo Terramasco ci sono diversi abbonamenti, ma, ma, c'è l'abbonamento a Seminari Online, e con l'abbonamento a Seminari Online potrai partecipare, cara Malgasciona, al mio seminario online, che terrò venerdì 24 settembre, dalle 20.30 alle 23, sull'imprinting e la seduzione, come gestire l'imprinting per sedurre, per far innamorare. Cara carampana, potrai imparare a sviluppare, diciamo, le tue capacità su come sedurre, conquistare e far innamorare. Ma veniamo al tema. Cinque frasi chiave per spegnere un narcisista e recuperare il controllo, il controllo emotivo. Diciamo che ci sono persone che sono soggette o sono state soggette ad abuso narcisistico. L'abuso narcisistico è una forma di controllo mentale prepotente e riguarda il dominio, riguarda il controllo. Il narcisista tende in qualche modo a controllarti, tende in qualche modo a governare la tua vita, tende in qualche modo a gestire totalmente, completamente la tua vita, facendola diventare letteralmente una vita di merda! Quindi, se non vuoi vivere una vita di merda, devi imparare queste cinque frasi. Tra l'altro, queste cinque frasi possono aiutarti a prendere una certa distanza emotiva dal narcisista, cosa che è fondamentale. Se tu vuoi raggiungere dei risultati, devi prendere distanza dal narcisista. Poi, i narcisisti covert, diciamo, che usano la comunicazione manipolativa, lo fanno per squilibrarti emotivamente, per generarti degli squilibri emotivi fondamentali, per rovinare, quindi, praticamente, la tua vita. Come parlare con il narcisista? Come interagire? In alcuni casi è importante sapere interagire con il narcisista quando, ad esempio, è necessario farlo. Ovviamente, se tu ti rendi conto che hai a che fare con il narcisista, la cosa migliore è chiudere completamente la porta, chiudere la porta in faccia, togliertelo dai coglioni, fondamentalmente. Questo è quello che più conta. Perché, se tu non te lo togli dai coglioni, il narcisista, in qualche modo, soffocherà la tua vita, entrerà, diciamo, in un rapporto deleterio con te, distruggendoti. I narcisisti hanno, diciamo, come obiettivo quello di dominarti, quello di controllarti, quello di manipolarti. I narcisisti vogliono prendere il controllo sugli altri, sono, diciamo, manipolatori, usano comportamenti dominanti su coloro che desiderano controllare. Allora, quindi non ha senso dire mi vendico del narcisista nel senso tradizionale del termine, no? Ma la cosa importante è, diciamo, smantellare tutto il suo tipo di comunicazione, ad esempio il gaslighting, che è quello di, diciamo, farti passare per folle, farti passare per pazzo. Le persone narcisistiche, i narcisisti, utilizzano queste tattiche, come ad esempio il gaslighting, per farti dubitare della tua realtà. Quindi tu non devi mai, e poi mai, dubitare della tua realtà. E quando incontri, diciamo, dei narcisisti, l'obiettivo è vincere, l'obiettivo è difendersi e distruggere il narcisista. Togliertelo dai coglioni! Questa è la cosa fondamentale. Come puoi vincere con un narcisista? Beh, utilizza frasi chiave che gli trasmettono il messaggio che dice che non accetti più di giocare ai suoi giochi mentali, che ti sei, che non hai assolutamente voglia di stare ai suoi giochetti. Eh, questo è una cosa fondamentale. Usa queste frasi. Quando il narcisista, ad esempio, ti dice, cercherà di farti vivere i sensi di colpa, cercherà di farti vivere le cose, e tu digli semplicemente prima frase. Ma mi spiace che tu la pensi in questo modo, ma è un problema tuo, di fatto io non so cosa farci. E quindi lo mandi a fare in culo, praticamente. Seconda frase, quando il narcisista tenderà a denigrarti, ma guarda, accetto tranquillamente che tu abbia una percezione errata di me, però ti vorrei far notare quelli che sono tutti i tuoi deficit. E quindi lì vai a scavare, dagli dell'impotente, come dire, dagli di tutto, insomma. Tiragli fuori tutte le sue pecche, tutte le sue magagne, e poi chiudi la conversazione. Quando il narcisista cerca di denigrarti, tu rispondi semplicemente, questa è la terza frase, ma tu puoi vedermi come vuoi. Io non ho assolutamente nessun interesse a stare a dire che come mi vedi tu non è reale, ma è soltanto una tua opinione, perché tutte le altre persone mi vedono diversamente, soprattutto io mi vedo diversamente. Quindi quello che pensi tu sinceramente, no me ne fotte un cazzo! Questo è quello che devi dire al narcisista. Quando il narcisista ti sente colpito in questo modo, questo è, diciamo, qualcosa. Quando anche qua il narcisista ti vuole screditare in qualche modo, eccetera, beh, un'altra frase che puoi utilizzare, tranquilla, è, beh, guarda, io mi resto rendendo conto che tu stai proiettando su di me quelli che sono tutti i tuoi deficit, quelli che sono tutte le tue magagne, quelli che sono tutte le tue ferite, perché ti hanno sempre trattato come una persona di merda, ma a questo punto mi sto rendendo conto che hanno fatto bene a trattarti come una persona di merda, perché mi sembra che tu sei una persona di merda e lo mandi a cagare. E questo è un altro, restando in assonanza con la merda, e questo è un altro modo per andare a, diciamo, a colpire il narcisista. Altro modo per ferirlo, quando lui sviluppa rabbia, sviluppa rancore, si scatena contro di te in qualche modo, digli semplicemente, ma guarda, la tua rabbia non è un mio problema e non è neanche una mia responsabilità. Io non sono responsabile delle disgrazie che tu hai. Probabilmente l'universo ce la va con te perché ti comporti in modo malvagio con l'universo stesso. L'universo ti sta giustamente punendo perché per la tua vita di merda. E anche qua chiudi tranquillamente la conversazione. Ecco, queste sono le modalità principali per riuscire a colpire e affondare il narcisista. E provaci, provare per credere.